Ciao Gabriele, mi ha detto mio nipote che parti, che vai a cercare le nonne che cucinano meglio, beh che mi vado bene io. Ma non è quello, è che te ne devi candidare a tuo nipote. Vabbè, io ti ho preparato una cosetta per il viaggio, così vediamo chi è che cucina meglio. Se hai una nonna così, iscrivila a Nonne Do It Better. E guardi, che le nonne cucinano meglio, se sa, pubblica la ricetta preferita di tua nonna su peroni.it. Le migliori? Vero ad assaggiarle di persona, chiaro.